Una domanda che ci ha fatto uno dei nostri telespettatori, come mai con il Cesena è durata così poco? Ne approfitto perché almeno, visto che... Ah, questa è una domanda delle cento pistole. Antonio, vuoi dare una tua versione dei fatti? Il purtroppo non è che saltare... Probabilmente differenza di personalità, basta, nient'altro, perché poi ritorno a dire un rapporto sulla carta bello col presidente, poi per il resto non lo so. Vi garantito che sono state tante di quelle stupidaggini messe in giro ad hoc che chi l'ha messo in giro si dovrebbe soltanto vergognare, ok? Si dovrebbe solo vergognare. È stato detto che io avevo litigato con Pierpaolo Bisoli perché volevo che a Lecce giocasse matute. No, io non ho litigato con Pierpaolo Bisoli, nella maniera più assoluta, mai. E penso che questo lo abbia chiarito benissimo anche Pierpaolo Bisoli. C'è stato solo un fraintendimento su una sostituzione che mi si era spento il cartellone. Punto e basta. Durata 30 secondi, non di più e non ha portato niente. Questo è stato dato solo come pretesto da qualcun altro e basta. Poi è stato detto che avevo promesso... Cioè robe che chi... Io invito a parlare chi effettivamente era a quel tavolo. Grazie. Grazie. Grazie.